Ben trovati, sono il dottor Michele Labianca, coordinatore della Task Force Coronavirus della Regione Basilicata. I dati riferiti al 2 dicembre, già diffusi dal bollettino regionale, indicano che dai laboratori presso strutture ospedaliere pubbliche convenzionate della Regione Basilicata è stato processato un numero totale di 1.700 tamponi molecolari per complessivi 156.657 tamponi effettuati dall'inizio dell'epidemia. Le positività totali riscontrate sono state 142 e di queste 124 in residenti, alle quali è necessario sormarne 7 di residenti in Stato estero o di altre regioni italiane, ma in isolamento in comuni della Regione Basilicata. Le ulteriori 11 riguardano residenti in altre regioni e lì in isolamento, i cui esiti non rientrano nel computo dei positivi della Regione, avendo questi soggetti utilizzati i laboratori convenzionati unicamente per la diagnosi. Sul totale dei positivi, nella giornata presa in esame, risultano in lieve prevalenza i soggetti di sesso femminile rispetto a quelli di sesso maschile, con un'età media che sale per i maschi a 46 anni e per i soggetti di sesso femminile si mantiene intorno ai 45. Tra i casi positivi odierni, il 17,5 è la percentuale tra i casi positivi nella fascia d'età tra i 0 e 20 anni, sempre più rappresentata è la fascia d'età intermedia tra i 21 e i 64 anni, al 62,5%, mentre in discesa l'interessamento degli ultra 65 anni. A prescindere dal numero complessivo giornaliero dei tamponi eseguiti, con un riscontro di positività inferiori, parametri importanti nella valutazione dell'andamento dell'infezione sono rappresentati dalla percentuale di incremento dei nuovi casi negli ultimi sette giorni rispetto alla media nazionale, che nella Regione Basilicata è del 13,2%. Si tratta di Regione con valori inferiori rispetto alla media nazionale per nuovi casi per 100.000 abitanti nelle ultime due settimane, ma con un incremento percentuale dei casi nell'ultima settimana, che è superiore a quella della media nazionale. Altro parametro che testimonia la circolazione del virus sul territorio regionale, potendo indicare indirettamente un sovraccarico del sistema di tracciamento, è la proporzione test positivi e numero totale dei test effettuati, che oggi è al 7,3%. L'indice IRT, cioè l'indice di contagio, è in queste ore oggetto di valutazione da parte degli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute e sembra in discesa rispetto a quello della scorsa settimana. Per quanto riguarda i casi positivi per Covid-19 nella Regione Basilicata, 81 sono attribuiti alla provincia di Potenza e di questi 26 interessano il capoluogo. I rimanenti 55 sono distribuiti in 22 comuni della provincia. 43 casi sono attribuiti alla provincia di Matera e di questi 16 interessano la città di Matera, mentre i rimanenti 27 sono distribuiti in 10 comuni della provincia. Sono in discesa gli incrementi numerici che siano verificati nelle strutture residenziali per anziani, mentre il fenomeno dei positivi viene alimentato sempre da focolai che coinvolgono la popolazione generale. Il totale dei ricoverati presso le strutture ospedaliere Lucane e Covid dedicate è di 181 pazienti, mentre il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva rimane stabile, rispettivamente 12 pazienti a Potenza e 8 a Matera. I guariti della giornata presa in esame sono 78, per un totale guariti di 1956 soggetti. I positivi totali sul territorio sono residenti, sono 6.207, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 6.020. Si registrano purtroppo ulteriori cinque decessi a partire dal primo dicembre per complessivi 155 residenti a cui devono aggiungersi i tre deceduti in strutture ospedaliere Lucane e non residenti. Sembra in conclusione essersi fermato il trend ascendente dei casi che in questa settimana è in discesa. Speriamo che questo andamento rispecchi anche quello della regione. deve essere sempre forte il richiamo da parte di ciascuno di noi, sia nella vita privata che nell'ambito lavorativo, al rispetto delle norme di massima precauzione per cercare di arginare la tendenza all'eventuale aumento incontrollato dei casi positivi. Ringraziandovi per l'attenzione vi saluto e vi do appuntamento al prossimo intervento.